parliamo oggi di sigarette elettroniche perché al pari delle sigarette normali potrebbe succedere che venga vietato l'uso della sigaretta elettronica all'aperto cosa ne pensano i vassesi? la sigaretta romana ha un odore molto più più forte molto più penetrante quindi anche all'esterno in realtà no non darebbe fastidio che si continuasse a fumarla mi ha dato fastidio entrambe quella vera sì molto più pesante rispetto a quella elettronica e poi fa proprio male anche alla salute di chi la respira quindi sono due cose molto diverse non mi dà fastidio all'esterno in realtà nemmeno tantissimo all'interno perché comunque è un odore molto più tenue rispetto alla sigaretta normale se non si può fumare all'aperto dove deve fumare? dentro casa sua al chiuso solo lì nei locali non si può fumare all'aperto non si può fumare smettiamo di fumare lo stato poi ci lamenterà la sigaretta elettronica dovrebbe avere in alcuni casi la nicotina all'interno dell'ipido quindi tu quando fumi lo fai per la nicotina che sei dipendente da quello quindi fumi per quello io penso che invece la sigaretta normale a differenza dell'elettronica abbia altri motivi per i quali si fuma come per esempio nel mio caso perché anche io fumo elettronica però non mi faccio un drink non mi voglio cioè voglio fumare una sigaretta normale quello sì ma penso che molti la pensano in un certo modo ma a me l'elettronica non dà fastidio come una sigaretta normale quindi non vedo perché limitarne l'uso anche all'aperto al chiuso si potrebbe starci come normativa ma all'aperto non vedo perché dovrebbero limitarne